Sono iniziate ieri le prime rimozioni di veicoli abbandonati sul territorio del comune d'Imperia. L'intervento fa parte di un sostanzioso piano per togliere dalla strada carcasse di auto. Gli agenti della polizia locale sono così già intervenuti con una bisarca e un caroattrezzi in via Lorenzo Acquarone. Sette le auto caricate e portate in deposito dove stazioneranno 70 giorni, dopodiché si procederà d'ufficio alla demolizione. Rispetto al passato, questa volta l'operazione al comune non costerà nulla perché la ditta che si occupa di rimozione e demolizione lo fa a costo zero, ha precisato l'assessore all'ambiente e alla polizia municipale d'Imperia Giuseppe De Bonis. Altre azioni del genere saranno programmate la prossima settimana perché sono già state individuate una ventina di auto che possono essere portate via. Se i proprietari rivolgono indietro il veicolo hanno quindi 70 giorni di tempo e dovranno pagare una sanzione di 1660 euro, altrimenti scatterà la demolizione.